E per tutti ragazzi sono Giba e raga sono qui oggi come potete vedere a portarvi quella che sarà la sfida della settimana 7 perché si io sto registrando la sera prima e mentre voi state guardando il video io sono a Cuneo a dare l'esame di diritto privato che sicuramente non passerò però se qualcuno di voi qua sotto vuole lasciarmi un commentino in cui mi dite buona fortuna Giba io sono ben felice comunque raga prima di partire col video tanto ve lo sto già mostrando vi dico che stasera sono in live con gli iscritti su Twitch vi lascerò qua sotto il nome del mio canale vi iscrivetevi in tanti come potete vedere adesso la mappa si vedeva chiaramente che si vedeva chiaramente che l'ha disegnata pinnacoli pendenti quindi non è spesso che nessuno debba veramente necessariamente guardare il video basta guardare la mappa però è uno sbatto trovare la mappa in parco pacifico anche perché non so non si sa ancora dove sia perché sto registrando il giorno prima però basta guardarla e capite subito che si trova lì quello che vi sto mostrando adesso noi raga cerchiamo di arrivare 50 likes cercate di condividere il video e soprattutto evitatemi a arrivare raga a 4.000 iscritti visto che la scorsa settimana era 3.500 sono tipo a 3.950 quindi nulla raga lasciate un bel like, un commentino e iscrivetevi al canale così roma 4.000 bella ragazzuoli ciao 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 ciao